Questa è un'iniziativa per noi estremamente importante, siamo orgogliosi come città di Grosseto di ospitare un'iniziativa che vede gli uffizi presenti in uno dei nostri musei, che è il Museo delle Carrarisse, un museo molto importante che si arricchisce di questa bellissima mostra legata agli anni Sessanta. Noi siamo sicuramente una meta turistica da un punto di vista ambientale, negli anni stiamo lavorando per essere sempre di più una meta turistica anche da un punto di vista culturale.